raga ciao a tutti dunque prima di partire col filmato ho una piccola sorpresa per voi ho deciso di premiare uno dei miei follower con una mystery box da valore di 50 euro questa mystery box sarà piena di esche per la pesca al bus esche che mi hanno salvato da capotti e che sono esche che credo che buchino e per partecipare diciamo a questo contest è semplicissimo basta seguire il canale youtube e seguire la pagina di instagram dopodiché dovreste taggarmi in una storia una storia di pesca preferibilmente io terrò da parte il nome e alla prima domenica di luglio farò una diretta in cui si estrae il vincitore dopodiché mi metterò d'accordo col vincitore per mandare il pacco e niente in questo filmato vedremo delle catture che ho fatto oggi di bass purtroppo piccoli non sono riuscito a prendere dei bei bass oggi però mi sono divertito è stato divertente anche rivederlo farlo spero che vi piace tanto vi ricordo seguite il canale youtube e la visione di instagram e niente detto questo buona visione eccolo qua un altro mamma mia questo artificiale qua ragazzi il top il top e sdanghede andiamo mamma quante catture oggi tutti piccoli mamma mia ragazzi questo artificiale qua un bucatore spietato comunque si slama da solo ma come godo questo qua com'è? è un bel testolino basta ah fanculo è scappato c'è 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 piccolino piccolino ma c'è un piccolissimo verme questo con il verme eccolo qua mamma oggi quest'esca oggi quest'esca fa paura oggi quest'esca fa paura pinza no si slama sempre da soli io c'ho un buco del culo che bellissimo basso oggi è il secondo con uno slamato liberiamolo immediatamente ah andato non si è fatto attendere troppo il primo basso della giornata sta lavando tutto cazzo non so neanche se si vede troppo bene se si vede bene ora lo liberiamo qua dall'ombra che si andrà a morire te l'abbasso c'è non c'è lo rincorre lo rincorre preso che numero ho slamato anche lui vieni qua vieni qua fatti vedere un po' fatti vedere la telecamera piccolini oggi davvero piccoli però meglio di niente magrolino via e si ricomincia dunque io spero che il video vi sia piaciuto la giornata è stata piena di catture hanno persi parecchi tutti piccoli però rispetto alle catture che ho fatto in quella zona lì anche se il video è quello che è stato girato così a caso mi sono divertito molto farlo e anche rivederlo ci sono stati dei bei momenti non ho tagliato tantissime bestemmie ma tante sì tante io vi ricordo ancora il contest per la mystery box mi raccomando partecipate e nulla ci vediamo su questo canale con altri nuovi video alla prossima e rimanete selvaggi è stato un po' di più Grazie a tutti.